buongiorno ragazzi di movie michael per voi oggi una nuova live television stavolta parliamo di zombi land double tap il seguito del fortunato film di ruber flechner del 2009 zombi and sono riusciti a riportare tutto il cast originale con la bigliette wrestling e jesse iceberg woody harrison e marston tutti tutti i candidati agli oscar o vincitori agli oscar siete pronti ragazzi 3 2 1 via il gioco che ho fatto con i candidati agli oscar ruber flechner regista di vene casa bianca io in that chair but they could have made a damn fine president you would have brought a real dignity to the office you're welcome america come è cresciuta qui che si è riuscita a rimettersi nel suo ruolo di ruolo classico di ah c'è anche il proprio di nuovo hey paul bard is this your dad? oh let's see i forgot to see the rule oh so she knows the rules? i told her just a few of them 73 and other more you're cute i like it i'm funny this raccomand i'm virgo avvivo guardo finire qua e vengo subito vengo subito è vero che è vero non mi sembra il classico sequel forzato nonostante siano passati dieci anni comunque adesso vedremo il prodotto finito in america 10 ottobre non so se da non uscirà la stessa data vabbè mi sembra un buon sequel vedremo cosa sarà uscita ad realizzare uber flashman alla prossima ragazzi ciao